Il boxing day della serie A di Futsal è la quindicesima giornata che chiude l'anno solare ed il giornone d'andata. Amici di PMG Sport Futsal, buona sera e benvenuti al pala saponare di Salandra da Davide Menolascina. Tra poco tutte le emozioni di signor prestito CMB, Meta Catania. Attaccato da Vega Musumeci, se ne va bene mezza due, pressato anche da Zaccanaro. Calcio a Musumeci, la palla è buona per Rossetti che la mette dentro, cogliendo in controtempo Weber. Il Meta passa, avanti, 1-0 al terzo minuto. Rossetti ancora, vince duello con il fisico, mette in movimento Dalcin, ottima copertura di Vega che provava a ripartire. Doppio tunnel di Vega che poi scarica per Sanchez, la porta sul sinistro. Provvidenziale Musumeci in scivolata. Dalcin va da De Oliveira. Musumeci un po' incertezo contro la calcia a Zaccanaro. che non perdona l'errore del Meta e fa 1-1 la firma. C'è sempre da parte del capitano. Caruso controlla col destro, calcia col sinistro. Si butta dentro Vigionella, la palla è per Sanchez che sarà sposta ancora sul mancino. Gran parata di Perez sul primo palo. Sempre Vega sul pallone, si avvicina anche Weber. La palla invece arriva a Sanchez che stavolta deve calciare con l'esterno. E l'ultimo tocco è poi di Lucas. Vizionan che fa 2-1 per il signor prestito CMB. Tube l'alza per Sanchez. La toglie dall'incrocio Perez. Weber bene per Vizionan che l'aveva anche girata in maniera molto intelligente verso Sanchez. Calcia ancora Weber. Fallo laterale all'altezza in prossimità del corner. Salas dentro. Arriva Rossetti. Che fa doppietta e fa soprattutto 2-2. Pulvirenti. Tante finte cercava Caruso. La palla è buona per Ines che va da Caruso. 8 secondi e il CMB si riporta avanti con la rete di Umberto Caruso che fa 8 in campionato. Già inseguita dal meta. Rossetti lotta con Zancanaro che non commette fallo. Si va a prendere il pallone di forza. Zancanaro calcia. Sfiora l'incrocio. Dentro da Camagno. Vega però ne legge le intenzioni di ruba la palla. Sanchez con l'esterno benissimo per Tube. Vede Sanchez che carica il mancino col tacco. Lignares prende un palo incredibile. Bene da Dalcin. Che restituisce poi il pallone. Sempre sulla sinistra per il numero 20. Camagno prova ad accentrarsi. Calcia verso la porta. Si distenderà sotterra Weber. Lignares. Prova ad accentrarsi. Col destro in porta. In spaccata. Perez dice di no. Weber al rinvio. C'è Sanchez da altra parte. Calcia a Vizonan. E' un gol bellissimo. Quello del CMB che vale il 4-2. L'assist di prima per la botta di Lucas Vizonan. La lascia a Vighe. Partito Sanchez. La palla è buona per lui. Sanchez la tiene in campo. Prova a calciare. Ed un gol meraviglioso di David Sanchez-Tienda. Che fa 5-2 per il CMB. Abbozza un po' una pressione alta il CMB che poi torna a protezione della propria porta. Cesaroni dentro. Deve a Tube. Poccalcione verso la porta. Pulvirenti. Che non la inquadra di poco. Dalcin. Sul sinistro. Dentro. Tube perde l'equilibrio. La palla diventa buona per Battistoni che se la porta sul sinistro. Weber prima. Traversa poi. negano il 5-3. Tocca proprio per Zancanaro che calcia col mancino. Perez rimane piantato per terra. Lottano. Rossetti e Tove. La palla diventa buona per Vega che finita il tiro. Poi parte. Finisce per terra. Per il falo di Musumeci. Che era già munito. E arriva il rosso. Per il capitano siciliano. Riparte Sanchez. Calcia. Stavolta il tiro è alto. Finite il tiro con il destro. Va dentro Davisonan. Ancora una gran parata di Perez. Fischia l'arbitro. Va ancora Sanchez. E Perez ancora bravissimo a dire di no. Arriva Duda Dalcin a prendersi il pallone. Lo perde però nel rimpallo. Lignares scarica per Sanchez. Ancora Lignares. Manda fuori da pochi passi. Dalcin tutto di prima. E Camagno mette fuori. Parte Zancanaro. Para Perez. Poi pulvirente. Ancora Perez bravissimo. Dentro da Rossetti. Che la lascia però Lignares. Che se la porta avanti col tacco. Lignares punta la porta. Col sinistro. Finisce. 5 a 2. Per il CMB. Che torna a vincere in Serie A. E chiude alla grande il suo 2019.